ciao a tutti allora sono al parco co vieni qua vieni qua andiamo allora questo ne sto approfittando di questa uscitina sperando che non piova perché il tempo un po così allora questo è un video che volevo fare da un po di tempo e allora ne approfitto in questa camminata e tra l'altro un video che volevo fare mi è stato poi anche belva belva che mi è stato anche risuggerito da un paio di persone allora l'argomento è questo come ho imparato a suonare l'armonica quando non c'era internet quando non c'era internet allora inizia innanzitutto quando ho iniziato ho iniziato vieni andiamo di qua co ho iniziato inizio anni 90 adesso non ricordo esattamente il preciso momento però ricordo quando sono andato ad acquistare la mia prima armonica una blu owner blues harp in tonalità di do chi mi segue sa cosa penso della blues harp ma è stata la mia prima armonica vieni e però non mi ricordo esattamente era inizio anni 90 se era stato il 90 giù di lì e quindi sono quasi ormai 35 anni che sono ogni strumento ma come ho fatto imparare come ho fatto imparare questo è un video un po abbraccio mentre cerco di non perdere di vista il cane mentre che si diverte anche con gli altri cagnolini vieni 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 allora innanzitutto è stato un casino non è stato facile non è stato facile perché non c'era niente non c'era niente c'era soltanto la la voglia c'è soltanto la voglia di imparare quindi io ho questa armonica tra l'altro una una sola in una sola tonalità in tonalità di do e non sapevo niente nel senso che è imparato tutto da solo tutto da solo e quindi mi c'è voluto anche tanto tempo e tra l'altro non essendoci niente hai capito i riferimenti quali sono i riferimenti per me sono stati i dischi i dischi io sentivo l'armonica nei dischi e mi piaceva quello che ascoltavo e cercavo in qualche modo di imitarlo però era un problematico perché io avevo una sola armonica ancora non avevo capito che bisognava avere parlando di armonica diatonica bisognava avere più tonalità di armoniche capire che esisteva che per suonare blues principalmente si usa la seconda posizione e quindi magari penso era in do e mi ci voleva l'armonica in fa io ci andavo dietro con l'armonica in do qualche nota la beccavo però non riuscivo a ottenere quel suono e quindi mi c'è voluto parecchio tempo non c'era niente non c'era niente se non i dischi i dischi e qualche metodo per esempio quando iniziato io c'era il metodo di paolo ganzi che ha avuto anche il piacere di intervistare qui sul canale andiamo vieni di qua e quindi qualche dritta l'ho trovata su questo metodo o comunque c'erano delle tablature da cominciare a studiare cominciava cominciamo un po orientarmi però a differenza di oggi che fortunatamente esistono video corsi tipo quelli che ho anche creato io video corsi cioè i tutorial su youtube oramai di qualsiasi cosa di qualsiasi cosa compresi anche i miei e adesso c'è tantissimo materiale da utilizzare avessi trovato io quel materiale quando iniziato sicuramente avrei impiegato molto meno tempo a mettere un po a fuoco le idee capire un po meglio come funziona lo strumento e come orientarmi nel suo studio però e quindi non c'era niente non c'era internet altro che youtube non c'era proprio internet io ho cominciato a utilizzare internet all'università quando frequentavo architettura nel laboratorio informatico ho avuto la mia prima hotmail primo accesso tramite mi ricordo altavista che mi permetteva di fare cominciare a fare qualche ricerca e quindi ma stiamo già parlando in parecchi anni dopo quando avevo già grosse intuizioni e avevo già comunque capito per conto mio tutta una serie di cose che poi ho continuato a mettere a fuoco nel tempo e però quando non c'era internet c'era questa cosa dell'ascoltare la musica di ascoltare i dischi di ascoltare i dischi e quindi ascoltare riascoltare chiaramente non c'era spotify o le varie piattaforme di streaming i dischi di armonica erano anche abbastanza rari quindi o li si trovava ad acquistare oppure qualche amico magari riusciva ad averne qualcuno nuovo allora te lo passava ti facevi una piccola e iniziato a fare una una collezione di dischi di armonica e quindi però non ce ne erano tanti soprattutto dischi di blues di chicago blues poi col tempo sono andato a conoscere vari armonicisti ma anche perché tra appassionati di armonica insomma si condivideva parecchio e quindi quello che si parava magari ce lo si scambiava ma soprattutto ci si scambiava i dischi le registrazioni se qualcuno riusciva a trovare qualche metodo nuovo mi ricordo i primi metodi di jean jacques milto che io ho utilizzato tantissimo negli anni vieni qua piccolina vieni qua vieni qua vieni qua vieni qua che ho utilizzato tantissimo negli anni ed era materiale molto interessante anche perché milto che era già un super virtuoso dell'armonica comunque aveva già un interessante modo per spiegare certi argomenti e soprattutto faceva studiare frasi anche abbastanza complesse quindi mi piaceva molto io ho utilizzato parecchi suoi suoi metodi perché comunque studiavi studiavi il fraseggio studiavi suonavi suonavi quindi sì un po di teoria però al fine tanta tanta pratica e poi questa cosa dei dischi purtroppo sia un po un po persa io infatti continuerò anche a fare le mie proposte di ascolto di dischi di armonica che reputo utili perché quando non c'erano le piattaforme di streaming i dischi se li ascolta ce li ascoltavamo più e più volte più e più volte anche perché ripeto non ne avevamo tantissimi e quindi quelli si aveva però erano tutti i dischi che validi validissimi mi ricordo anche recuperarli c'erano dei negozietti ma i negozietti fisici no che magari si scopriva che c'era questo negozio specializzato nel blues e quindi probabilmente si trovavano anche dei dischi di armonica blues ci si faceva mandare il catalogo li si ordinava scrivendo via posta compilando il form cartaceo è molto romantica questa cosa poi ora è tutto molto più comodo si ordina online magari sia sia il giorno dopo quello che si è ordinati però allora c'era anche questa cosa dell'attesa no quindi quando quando arrivava quando mi è arrivato udu man blues di junior wells perché avevo letto questo è uno di quei dischi da ascoltare assolutamente quindi qualcuno mi fece capire questa cosa allora ho trovato da ordinare e quando mi è arrivato sai anche il momento dello spacchettamento no spacchetti e tiri fuori il cd con la copertina libretto leggi le cose guardi scopri magari dei dettagli dove registrato quando è stato registrato con chi con quali musicisti è stato registrato a parte junior wells e e poi il momento dell'ascolto lo metti su e comincia a godere quindi te lo ascolti una volta te lo ascolti due giorno dopo lo rimetti su allora questa cosa dell'ascolto massivo massivo è secondo me qualcosa da recuperare qualcosa da recuperare perché spesso mi si mi si domanda è ma come fai le frasi come ti viene in mente ascolto io come tanti altri ho ascoltato tanto 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 ripetutamente a sfinimento non c'era praticamente un momento in cui ci fosse musica in sottofondo ma musica che poi mi sceglievo io è non che mi veniva non che mi veniva proposta dall'algoritmo mi sceglievo io il disco di quell'anno ascolto massivo allora in particolare poi ognuno trova il proprio armonicista preferito e allora ne parlavo ieri con alessandro durante la nostra lezione e se tu trovi un armonicista di piace diceva questo proprio mi piace tanto ascoltalo a sfinimento ma più e più volte lo stesso disco più e più volte lo stesso brano dice a questo pezzo mi piace allora riascoltandolo tante volte cosa succede che si comincia a creare la memoria di quello che senti al punto tale che tu quasi te la canticchi no la frase dell'armonicista ti entra nelle orecchie il cervello elabora insomma e poi comincia a canticchiarti la stessa frase che hai sentito fare dall'armonicista che stavi ascoltando a quel punto si hai bisogno di capire come funziona la questione delle tonalità e delle posizioni perché se tu stai ascoltando quella frase di quell'armonicista se vuoi riprodurre quella frase devi avere la stessa armonica che sta utilizzando l'armonicista e quindi devi capire la questione delle tonalità delle posizioni il capire se stai suonando in seconda in prima in terza insomma bisogna un minimo studiare io c'è stato un momento in cui mi sono messo parecchio sotto con lo studio mi sono messo parecchio sotto con lo studio e tra l'altro per capire la questione delle tonalità non è stato immediato ci sono arrivato un po alla volta però una volta messo a fuoco che adesso insomma basta andare sul canale di youtube di easy arp cosa sono le posizioni troverai sicuramente uno o più video dove ti spiego questa cosa quindi chi inizia oggi sicuramente avvantaggiato perché gente come me magari mette a disposizione la propria esperienza risultato di anni e anni allora e quindi è una è stato un approccio molto empirico il mio molto empirico una volta capita questa cosa io mettevo sul disco detto aspetta un attimo in che tonalità capita la tonalità come ho fatto capire tra l'altro la questione delle tonalità beh per me è stato anche il fatto di suonare con altre persone da subito io ho avuto anche se non ero capace ho iniziato da subito a suonare con gli altri con chiunque io avevo imparato magari due frasettine con l'armonica ancora non sapevo niente ma trovavo qualcuno che suonava la chitarra mi chiedevo gentilmente se potessi di suonare insieme e questa cosa l'ho fatta poi chiaramente nascono delle amicizie quindi amici appassionati di musica con cui condividere serate fine settimana amici magari chitarristi cantanti percussionisti e io con la mia armonica cercavo di comunque inserirmi in qualche modo quindi magari a un certo punto senti parlare di da chi di solito da chi maneggia la chitarra senti parlare di accordi scale alle pentatoniche nome alle note qualcuno magari comincia usare il concetto di grado allora che fai che facevo io curioso domandavo ma cos'è come si fa al punto tale che a un certo punto mi ricordo ho anche iniziato da solo magari facendomi dare un aiutino dagli amici ho anche iniziato da solo a imparare a suonare la chitarra da zero dal giro di do ok quindi come suonare quattro accordi mettere le dita sulla chitarra cominciare a sentire il suono e la cominciò da lì è partito anche un altro discorso parallelo quindi se io sono in grado ho capito come suonare una scala pentatonica sulla chitarra ma perché non posso suonarla sull'armonica qui c'è stato anche un crossover un crossover tra diversi approcci poi per un buon periodo anche studiato sax contralto io ho ripreso in mano il pentagramma ed ero per esempio arrivato riuscito ad arrivare tecnicamente a me interessava suonare un po di swing un po di funk e quindi ascoltavo anche quel genere e quei generi tanta musica con i con i fiati e quindi a certo punto ero riuscito a suonare delle delle frasi ad avere un approccio musicale sul sassofono un certo tipo di approccio differente da quello che avevo costruito sull'armonica e allora ha detto ma se riesco a farlo con sassofono perché non riesco a farlo con l'armonica e da lì è partito il nuovo incrocio poi c'è stato anche il momento in cui e poi a un certo punto è arrivato internet fortunatamente motivo per cui a un certo punto mi feci grazie a internet scopri per esempio our levy questa cosa degli over degli over bending degli over blow e mi ricordo praticamente tramite il sito di our levy che penso esista ancora levyland.com credo c'era la possibilità di farsi arrivare andiamo 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 non sputare c'era la possibilità di farsi arrivare un dvd che ho ancora anzi ne ho un paio ed era new directions for armonica dove our lady in questo dvd allora c'erano i dvd spiegava un po le basi di questa tecnica e come metterla in campo attraverso l'armonica dovevi di utilizzare una honor golden melody andiamo di qua co andiamo di qua andiamo di qua di qua di qua di qua una honor golden melody come mettere mano al gap e poi sentirlo suonare insomma e soprattutto mettendo in pratica queste note aggiuntive per niente facili da ottenere allora è questo dopo l'avvento di internet se no non è che avrei potuto sapere difficilmente avrei potuto sapere dell'esistenza di queste nuove possibilità molto interessanti anche solo per avere dei nuovi territori di studio e quindi allora però prima di questa cosa di internet che sicuramente è stata utile è una bellissima apertura possibilità e oggi meno male che sarebbe difficile tornare indietro probabilmente con l'approccio che si ha oggi però quindi che è successo mi sono messo proprio e prova e prova oggi riprova 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 tante 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 ore a volte anche a vuoto a volte anche a vuoto perché magari prendi una strada sbagliata e allora che come si fa bisogna poi ritornare indietro quindi a volte era più difficile era complicato perché magari perdevi un'impostazione sbagliata poi capivi che la dovevi correggere e vabbè comunque è andata è andata così l'importante poi sistemare le cose però di base posso sicuramente confermare tanto 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 ascolto ascolto massivo per un tanti anni io proprio mi sono proprio bombardato cioè continuamente cioè praticamente quasi tutte le ore da sveglio io ascoltavo musica anche mentre facevo altro anche mentre facevo altro però c'erano anche i momenti in cui ascoltavo in modo mirato dedicato quindi con attenzione più e più volte e poi il suonare dicevo iniziato da subito a suonare con gli altri questa cosa secondo me è fondamentale perché ti insegna il suonare con la musica di insieme ti insegna qualcosa che anche un insegnante difficilmente ti può dare perché proprio la situazione che si è creata vieni di qua andiamo di qua andiamo dai dai vieni 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 di qua andiamo per esempio adesso sto passando vicino a due ragazzi messi lì che stanno suonando la chitarra allora vieni andiamo e quindi suonare con gli altri da subito ho avuto la fortuna di conoscere abbastanza giovane persone con cui suonare e anche persone appassionate di blues e quindi suonare il genere che ti interessa vuoi imparare a suonare blues suona blues con chi è già capace suonarlo poi si cresce anche si cresce fare già un giro blues con la chitarra ti può guidare dare due dritte spiegarti la progressione blues degli accordi quant'altro fartela sentire farti sentire la differenza tra gli accordi maggiori minori accordi di settimo e quant'altro beh serve ma soprattutto puoi suonare 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 perché magari prendi anche solo un disco che ti è piaciuto trovi un amico che appassionato e provate a copiare provare copiare ecco un'altra cosa sono andando parecchio abbraccio ma qua le idee vengono sulla memoria e poi magari mi tornano in mente proprio anche le situazioni che ho vissuto perché qua si sta parlando di quasi 35 anni fa da quando ho cominciato allora mi sto infartando un po troppo allora quindi prendere un disco e copiare 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 e tra l'altro allora non c'erano le backing track quelli che si faceva si suonava sui dischi si suonava sui dischi e quindi io magari mi piaceva il pezzo di junior wells suonavo sul pezzo di junior wells cercavo a un certo punto capivo finalmente qual era l'armonica da utilizzare e allora ascolta ascolta a un certo punto cercavo di imitare le sue frasi e si va per per approssimazione dopo un po si comincia a capire aspetta e soffia qua aspetta aspira là c'entra il foro magari ancora non si era capito come funzionavano le scale certe scale vieni di qua però si copiava si copiavano le frasi c'è questa cosa che non bisogna avere la pretesa di inventare quello che già stato inventato quindi io cercavo di imitare fortunatamente non è che avessi un particolare orecchio ma almeno una grossa predisposizione a livello di curiosità la passione innanzitutto che proprio viscerale no qualcosa che tu ascolti blues e l'armonica nel blues per la prima volta rimani colpito ti interessa questa cosa e sei fregato e quindi copiare copiare non pensare che bisogna inventare allora come è un qualcosa che fin quando è rimasto una tradizione diciamo orale no alla fine i talenti sono sempre venuti fuori ma anche forse per lo sforzo cioè anche la gratificazione del momento in cui si riusciva ad avere quello spunto nuovo lo si sfruttava c'era non c'era fretta non c'era scelta perché iniziato che avevo 16 17 anni giù di lì avevo anche tempo disponibile da dedicare a questa passione però non è che avessi un'altra prestazione per cui mi esegliavo la mattina io entro due anni devo diventare bravissimo no era proprio una questione a me interessa suonare punto e quindi lo facevo tutti i giorni ogni volta ho sempre un'armonica in tasca avevo sempre un'armonica in tasca tipo e comunque la suonavo qualsiasi cosa che avessi imparato la ripetevo quindi cercavo di migliorarmi nel tempo e quindi è stato lungo un percorso lungo tortuoso faticoso ma parecchio appassionante divertente sicuramente divertente e poi del condiviso non ero adesso il pericolo che si che a volte si si ricorre è quello di rimanere un po troppo distanti nel senso che sei a casa hai la tua passione apri internet youtube ti guardi tutorial ognuno a casa propria ognuno distante e si fa fatica magari a condividere questa passione fortunatamente esistono degli eventi occasioni musicali e quant'altro ha tra l'altro i concerti andare ai concerti sicuramente è qualcosa che è utilissimo se non indispensabile cioè ogni volta che c'era un armonicista che capitava dalle mie parti io sicuramente andavo andavo a cercarlo andavo a sentirlo e se capitava una seconda volta ci ritornavo assolutamente poi magari andava lì trovai quello bravo tu stavi un po imparando stavo un po imparando magari ero le prime prese con il suono elettrificato allora andavo lì guardavo gli chiedevo ma che microfono usi che amplificatore usi ma come lo regoli cos'è questo e quell'altro così rischi di risultare magari un po rompi palle però magari tornavi a casa con qualche informazione in più e se trovavi magari un armonicista simpatico ti dava una mano qualche dritta quindi anche lì orale orale raccogliere informazioni ed è andato avanti per parecchio tempo poi allora a un certo punto ho iniziato seriamente e io già suonavo già suonavo un po indietro che mi sto allontanando un po troppo vieni vieni con io allora avevo già iniziato a suonare avevo già cominciato a capire qualcosa del blues e poi e poi ho cominciato a cercare di suonare armonica blues un po più seriamente quindi oltre che a divertirmi a suonare la qualunque con chiunque vieni andiamo oh vieni a un certo punto ho creato il mio progetto di blues band ho detto devo crearmi un progetto da armonicista quindi già avevo la mia collezione di dischi di armonica avevo già selezionato i brani che mi interessava suonare avevo già anzi ancora prima di creare il mio progetto di blues band con il repertorio da armonicista c'è stato mi ricordo un periodo in cui bellissimo si era giovani e spensierati avevamo creato un quartetto chitarra chitarrista cantante bravissimo marco piccioni che adesso si trova a londra e fa il chitarrista professionista da parecchio tempo prima si è andato di romare alla berkeley school of music quindi per un anno è stato via poi tornato mi ha passato delle cose è stato molto bello comunque per un po di anni con marco piccioni e poi c'era e lui chitarra e voce poi basso e batteria e armonica avevamo creato questo quartetto dove suonavamo blues repertorio non proprio da armonicista abbastanza vario però qualche brano d'armonicista già era inserito in repertorio però la cosa è figa la cosa bella avevamo parecchio tempo noi si provava tre volte alla settimana tre sere alla settimana andare in giro a bighellonare noi ci divertivamo di più a chiuderci in cantina il batterista aveva una tavernetta dove si poteva suonare la sera una villetta nella periferia di torino indipendente quindi isolata e quindi nella tavernetta proprio potevamo fare tutto il rumore possibile senza disturbare nessuno e allora sicuramente cioè due volte alla settimana ma in un certo periodo ci trovavamo tre volte la settimana tre sere la settimana oppure due sere la settimana e la doma il sabato pomeriggio che poi sforza anche il sabato sera perché ci si divertiva così e poi chiaramente si suonava si condividevano tante tanti bei momenti adesso spero che non si scarichi la batteria del largo pro e mi lascia metà sera ma sono quasi arrivato alla fine del discorso allora quel periodo è stato sicuramente utilissimo perché suonare in gruppo tre volte la settimana magari non tutte le settimane ma non mancava la settimana che non si facesse almeno una prova e quindi registri la prima demo la porti nei locali ti fai dare le prime serate da lì è partito un po il tutto in modo in modo serio poi da lì è partito l'altro periodo in cui mi sono messo a studiare intensamente il mio strumento ne ho già parlato in un precedente video e dopo di che da cosa è partita cosa ho iniziato ho avviato il mio progetto di band armonicista con il repertorio di armonicista gli arpi non blues con cui siamo andati avanti per quasi 15 anni con la stessa formazione repertorio di armonicista ci siamo divertiti tantissimo nel tempo quindi anche su è lì vai a raffinare perché studi io proprio suonavo i pezzi che ascoltavo quindi mi tiravo giù le parti mi tiravo giù le frasi gli assoli i temi e tutto quanto e comincio a costruire ho cominciato anche a costruire un po il mio il mio stile poi iniziato tempo in quel periodo ben invitato insomma mi notarono quindi venne invitato a insegnare al centro gestorino nel 99 e quindi alla fine non sono passati tanti anni tantissimi però quasi una decina almeno 8 almeno 8 e però a diventare bravino ci ho impiegato un po di anni però tutto il percorso secondo me è stato fondamentale ogni difficoltà è stata utile lo sforzo per superarla soprattutto e quindi e poi da lì è partito tutto ed è continuato allora quindi questo come come è capitato che imparato suonare l'armonica quando non c'era internet tanta passione tantissima passione tante ore dedicate all'ascolto e alla pratica allo studio individuale ma anche poi alla condivisione con con gli altri musicisti e appassionati mettere su un progetto mettersi alla prova andare al gen session conoscere gente scambiarsi informazioni vieni di qua vieni di qua lascia lascia e suonare 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 come sono diventato un bravo improvvisatore improvvisando io ho iniziato a suonare improvvisando e poi pian piano sono andato a capire come si poteva migliorare questa cosa istintiva renderla un po più comprensibile buon questo video sono una trentina di minuti abbondanti che che parlo quindi mi faceva condividere sicuramente mi sono dimenticato qualcosa mi sono venuti dei flash di memoria sparsi e non ricordo ormai più tutte le serate passate a suonare con gli amici i concetto a poi suonare dal vivo anche da ero scarso ero scarso scarsino insomma cercavo di non fare brutta brutte figure però mi buttavo mi buttavo mi buttavo mi buttavo anche quando c'erano le band che suonavano doveva chiedere se potevo suonare un pezzo con loro ogni tanto me lo lasciavano fare vieni di qua co vieni di qua andiamo 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 e quindi tante tanti concerti tante trasferte prendi ore scariche fai andare a suonare andavo a suonare anche per due soldi allora a volte tante volte anche per per niente ed è giusto così quando si si deve imparare però tanta tanta chilometraggio come come diceva come si diceva nel film mississippi adventure il chilometraggio fa quindi fare chilometri andare a suonare da qualsiasi parte in qualsiasi situazione esperienza esperienza e quindi serata dopo serata concerto dopo concerto prova dopo prova tentativo dopo tentativo sicuramente tutto questo ti forma e a me servito quando non c'era internet e ci si trovava la sera per suonare insieme a posto di guardare le serie su netflix ecco perché non neanche c'erano al massimo c'era qualche vhs e adesso vediamo di ritrovarci se io ho capito dove sono e questo è dicevo sicuramente mi sono dimenticato vieni di qua co vieni di qua sicuramente mi sono dimenticato qualcosa però qualcosa vi ho vi ho detto e spero di avervi anche dato qualche qualche spunto qualche spunto su la mia esperienza poi mi viene in mente qualcosa di nuovo magari farò una seconda puntatina e quindi adesso che c'è internet ci sono queste tutte queste possibilità sfruttatele bene sfruttatele bene non non schippate rapidamente non guardate una sola volta un tutorial furbo guardatelo più e più volte magari qualche dettaglio vi è sfuggito fidatevi di tutto quello che vi dico fidatevi di tutto quello che vi dico cioè è sudore mio a vostra disposizione quindi se vi do dei suggerimenti ve li do col cuore e con l'esperienza e con la fatica per aver capito nel tempo tutta una serie di cose che mi sono state utili poi per migliorarmi sullo strumento quindi sfruttate tutti i video che trovate a disposizione su questo canale e se avete voglia di seguire un percorso di studio costruito con un step by step iscrivetevi non solo come free non accontentatevi del del livello base 1 andate oltre cercate di migliorarvi magari non riuscite ad arrivare al quarto livello avanzato ma arrivate almeno al primo livello avanzato seguite tutte le mie indicazioni fate gli esercizi fate gli esami faticherete soprattutto appena arrivato appena arrivati al livello avanzato 1 faticherete ma è proprio lì che la fatica è fondamentale perché se non fai fatica non sta imparando niente hai capito e quindi sforzatevi e se avete voglia iscrivetevi adesso ho anche messo a disposizione una nuova sezione masterclass quindi anche se sei già avanti troverei sicuramente qualcosa da di nuovo di utile da studiare e poi se hai bisogno di magari mettere a fuoco alcuni dettagli sono anche a disposizione per chiaramente per le lezioni individuali tutti i miei studenti e poi tra l'altro in questi giorni vi annuncerò una cosa nuova proprio legato alla alle lezioni bene allora vi saluto vi dedico questo questo saluto ciao a tutti alla prossima ciao ciao